Si svolta all'interno della sala consigliare del Comune di Silvio la presenza di tutte le parti chiamate in causa l'incontro organizzato dal prefetto di Teramo Fabrizio Stelo per la disamina della problematica dei numerosi cantieri in A14, in particolare del tratto che va da Roseto degli Abruzzi a Pescara Nord. Si, un momento di confronto molto importante fra tutti gli attori istituzionali coinvolti a qualunque titolo, quindi i Comuni, la Camera di Commercio, i Vigili del Fuoco, il 118, ovviamente Anas, ovviamente Società Tostrade, per come gestire questi cantieri, le conseguenze di questi cantieri sulla A14, come noto dureranno circa altri due anni, con importanti sospensioni, quindi le vacanze estive, le vacanze di Natale, tutti i principali ponti, Pasqua, non ci saranno cantieri e ovviamente questo diluisce la conclusione dei lavori. I lavori sono comunque importanti perché rimettono, riammodernano sia gallerie che viadotti e quindi niente, era un momento di confronto anche per migliorare la comunicazione perché ovviamente quando c'è molto traffico in questo tratto della A14 è evidente che ci sono delle conseguenze anche sul traffico locale. In questi mesi le associazioni ma anche i sindaci hanno chiesto l'annullamento del costo del pedaggio. Sì, c'è un'iniziativa della Società Tostrade che si chiama, mi pare, cashback, che uno può chiedere il rimborso e prima in riunione ci dicevano che già molti utenti l'hanno chiesto e l'hanno ottenuto. Chiaramente non toglie il traffico, ovviamente il disagio, però è un piccolo, un ottimo segnale di buona volontà da parte della Società Tostrade. In questi mesi sono state numerose le polemiche scaturite per i lavori in corso oramai da anni sollevate dagli automobilisti ma anche da residenti e commercianti per il traffico intenso soprattutto di mezzi pesanti che si ripercuote inevitabilmente lungo la Statale 16 Adriatica e in particolare nel Comune di Silvi. Per questo motivo il sindaco Scordella continua a chiedere la realizzazione di una variante da parte dell'ANAS alla Statale 16. Indubbiamente è stata un'ottima occasione, ringrazio sull'eccellenza il prefetto per aver scelto la città di Silvi come punto d'incontro, ringrazio tutti i partecipanti che oggi sono venuti qui, intervenuti. Abbiamo sviscerato tantissime problematiche, tanti sono gli accordi e la sinergia di intenti che si vogliono portare avanti e naturalmente oggi è un punto di partenza per operare. Già siamo fiduciosi che per le prossime settimane, soprattutto nel periodo natalizio, con la sospensione dei cantieri potremmo respirare per un territorio che ne ha bisogno. C'era l'ANAS sulla variante? Abbiamo esposto le nostre problematiche, sappiamo che il tratto di Silvi è quello un po' più compromesso soprattutto per la Statale 16, abbiamo auspicato una programmazione anche per il futuro e abbiamo sollevato quella famosa ipotesi della variante 16 a cui noi ci crediamo fortemente.